Il capo della gendarmeria vaticana, l'aretino Domenico Gianni, si è dimesso. Dimissioni accolte da Papa Francesco. Ho deciso di rimettere il mio incarico per non ledere in alcun modo l'immagine e l'attività del Santo Padre, ha detto in un'intervista Gianni, e questo assumendomi quella responsabilità oggettiva che solo un comandante può sentire. Tutto nasce dalla soffiata attorno alle indagini sull'operazione finanziaria immobiliare della Segreteria di Stato, la disposizione di servizio firmata dal comandante della gendarmeria Domenico Gianni, con tanto di nomi e foto di cinque dipendenti vaticani sospesi in via Cattelaria, il 2 ottobre era stata pubblicata dopo poche ore sull'Espresso e quindi poi su tutti i mezzi di informazione. Sono trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del documento, ha detto Gianni, che era stato inoltrato ad uso interno esclusivamente per gendarmi e guardie svizzere. Come indicato nel comunicato della sala stampa del 1 ottobre, è in corso un'indagine e le persone coinvolte sono state raggiunte da un provvedimento amministrativo. L'uscita di questo documento, pubblicato da alcuni organi di stampa, ha certamente calpestato la degnità di queste persone. Anche io, come comandante, ho provato vergogna per quanto accaduto e per la sofferenza arrecata a queste persone. Ho dedicato 38 anni della mia vita al servizio delle istituzioni, prima in Italia, poi per 20 anni in Vaticano al Romano Pontefice. In questi anni, ha detto Gianni, ho speso tutte le mie energie per assicurare il servizio che mi era stato affidato. Ho cercato di farlo con abnegazione e professionalità, ma sentendomi, come il Vangelo di due domeniche fa, ci ricorda serenamente un servo inutile che ha fatto fino in fondo la sua piccola parte.